Siamo giunti alla quarta corsa all'ippodromo delle capanelle categoria F sui 1640 metri. Non partente Puerto de Greppi rimangono in 7 alla via, al 2 Ryan Gar, 3 ok ok, 4 Olmerbride, 5 Picasso R, 6 Odessa Desi, 7 Perignon, solitaria in seconda fila con il numero 8 Rania Mack. 200 allo stacco, macchina che accelera, parte con circospezione Odessa Desi. E allo stacco, cerca di emeggere Picasso R, suo ok ok che si porta al comando, poi Ryan Gar in cerca di una posizione, Olmerbride così come Perignon, lancio in 14 e 2. Con ok ok che conduce su Ryan Gar che è rientrato bene lungo la corda, poi il numero 8 di Rania Mack. Per line esterno è Picasso R, la cui schiena è stata presa da Perignon in quarta posizione alla corda Olmerbride. Cavalli che vanno a chiudere i 600 con la mossa decisa in mezzo alla pista di Perignon. Quando i 600 vanno in 46 e 4, 32 e 2 di frazione. Avanza deciso Perignon che scavalca Picasso R e prova ad agganciare il leader ok ok. Per line esterno è anche Odessa Desi che segue in terza pariglia. Chiusura degli 800 in 1 e 3 spaccati. 16 e mezzo l'ultima frazione con sempre ok ok a condurre. Ryan Gar apparigliato da Perignon, poi Rania Mack che ha di fuori Picasso R, ancora Olmerbride e Odessa Desi. Chilometro chiuso da ok ok in 1.17 e 6, 14 e 6 la frazione con il leader favorito che conduce in maniera abbastanza agevole all'attacco dei 450 finali. Adesso il ritmo cambia, tre quarti di miglio in 1.31 e 8, 14 e 2 l'ultima frazione con ok ok in vantaggio. L'errore di Olmerbride, Ryan Gar segue il favorito, poi Perignon ancora Rania Mack, ingresso a retario con ok ok in vantaggio. Ryan Gar che lo segue, poi Rania Mack che va per Buki e Perignon all'esterno stacca con facilità ai 100 finali. Ok ok, deve solo controllare Giampaolo Minucci, passo di metri, arriva il traguardo, viene ad affermarsi in maniera agevole su Ryan Gar. Terza posizione per Odessa Desi, 2 minuti e 5 decimi, la distanza, una misura ufficiosa intorno all'1.15 e 3, c'è un 28 e mezzo a chiudere. Ok ok, fa valere la sua classe, rispetta il ruolo di favorito 2.07, la quota al totalizzatore Giampaolo Minucci, Insulchi, Dario Battistini al training, i colori della scuderia Mondial Sport. Ecco un bel primo piano di questo fio di Varenne e Gazzetto ok. Seconda posizione per Ryan Gar che ne ha seguito le mosse sin dal via e terza Odessa Desi, autrice di ottimo finish in mezzo alla pista.